Lega di Serie B pronta a confermare la data come a rinviare con l'unico obiettivo di iniziare puliti la nuova stagione. Eloquenti le parole del presidente della Lega, appunto Andrea Bodi, in merito ai processi sportivi che potrebbero ritardare l'avvio dei campionati. A Bodi, che ha tenuto una conferenza stampa, insieme al presidente FGC Carlo Tavecchio e il procuratore federale Stefano Palazzi, ha espresso la massima fiducia nel procuratore Palazzi, appunto, che rappresenta la massima garanzia. L'opinione pubblica, ha detto il numero uno della serie cadetta, deve potersi specchiare nel nostro campionato dopo decisioni inequivocabili che ci consentono di dire che chi ha sbagliato è uscito dal sistema. A una delle vostre domande io ho risposto in maniera chiara e inequivocabile. Siete pronti a rinviare? Siamo pronti a confermare la data e al tempo stesso a rinviarla perché comunque vogliamo iniziare puliti, vogliamo che l'opinione pubblica possa specchiarsi nel nuovo campionato sapendo non soltanto di poter confidare nel nostro lavoro ma anche in decisioni che siano chiare, trasparenti, inequivocabili e che ci consentano di dire che chi ha sbagliato dal sistema è uscito. Comunque la voglia di giustizia è tanta ma anche in modo veloce per evitare lungaggini e ritardi clamorosi della stagione agonistica. Tavecchio ha annunciato un provvedimento condiviso con il procuratore Palazzi che sarà elaborato nei prossimi giorni e che permetterà di ridurre i tempi per istituire i processi sportivi. Grazie a questo provvedimento si punterà ad ottenere i deferimenti entro la fine di luglio. Con grande sacrificio di tutti, ha rilevato Palazzi ricordando il primo procedimento di Cremona, siamo riusciti a concludere il secondo grado il 17-18 agosto. Cercheremo di fare il più presto possibile anche sulla base delle strategie adottate. Palazzi quindi ha sottolineato come anche la procura di Catanzaro ha consegnato tutti gli atti anche per la partita Savona-Teramo e con loro si è concordato un programma per le audizioni. sarà una lotta contro il tempo. Mezza Italia che ha calciato il pallone sporchissimo dunque trema aspettando il conto alla rovescia che è già iniziato.